Terza edizione per il Napoli Bike Festival, la festa della bicicletta che si terrà alla mostra ad oltremare da venerdì 12 a domenica 14 settembre, organizzata dall'Associazione Napoli Pedala col patrocinio del Comune di Napoli e della Regione Campania. Grande apertura venerdì pomeriggio in Piazza Bellini con una passeggiata in bici verso Fuorigrotta per il concerto Sotto le stelle di Marcello Coleman. Succederanno tantissime cose sia all'interno della mostra ad oltremare che ospita il villaggio del festival ma anche per la città, infatti l'apertura quest'anno sarà da Piazza Bellini quindi dal cuore del centro storico di Napoli partirà una pedalata intitolata Pedalo per quindi ognuno porterà il suo contributo sociale che dà l'uso della bicicletta, chi pedala per migliorare il mondo, chi per ridurre l'inquinamento, chi per dimagrire, insomma ognuno ha la sua motivazione. La promozione dell'uso della bicicletta è un importante tassello verso una mobilità cittadina sostenibile che punta a ridurre l'uso dell'automobile in favore di mezzi di trasporto meno inquinanti e meno stressanti. Secondo un recente studio, ricorda Luca Simeone, oggi a Napoli ben il 10% delle persone usa la bicicletta per gli spostamenti occasionali o abituali in città. In questi ultimi anni si è avuto una rivoluzione vento epocale, abbiamo portato a termine alcune stazioni vento la metropolitana, tipo Piazza Vente Caribaldi e nei prossimi anni la stessa metropolitana arriverà anche all'aeroporto, apriremo dentro l'anno la stazione di Piazza Municipio, perché tutto questo ci consente di accompagnare questa importante infrastruttura anche con altre iniziative importanti che favoriscono la mobilità ecosostenibile, tra queste chiaramente quale cosa più importante della bicicletta? Voi sapete ancora che sempre questa amministrazione ha accompagnato questa esigenza e anzi forse l'ha stimolata, questa esigenza di spostamento per tenti in bicicletta e vi dico che nell'ambito dei grandi progetti che stiamo approvando, quindi sia di Napoli Est che nella zona di fuori grotta, tutta la nuova progettazione prevederà nuove piste per tenti ciclabili. Anzi vi anticipo che anche mentre su fuori grotta, l'attuale Piste Ciclabile ci stiamo mettendo mano per dare una configurazione ancora di ente migliore, ancora più soddisfacente secondo me per il ciclista. Il tema del Napoli Bike Festival di quest'anno riguarda le rotte ciclabili, con in programma percorsi naturalistici e una pedalata dalla zona flegrea al Vesuvio. Fra gli altri eventi, un torneo di bike polo a cura della ciclofficina Massimo Troisi, sfide e gare di velocità e di acrobazia e un incontro con Giuliana Bühring che ha attraversato gli Stati Uniti per 4.000 km dall'Atlantico al Pacifico in bicicletta. Inizia il 12 settembre un appuntamento cittadino ormai di rilevanza internazionale che è il Napoli Bike Festival. Vogliamo ricoprire la nostra città con l'entusiasmo, la passione ma anche la filosofia delle biciclette perché Napoli cambia la propria immagine attraverso non soltanto politiche sempre più sensibili all'ambiente ma politiche diverse in campo di mobilità.